Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Ipotesi di realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti tra Piano Dardine e Borgo Ferrovia e scatta subito la mobilitazione di cittadini attraverso una petizione popolare con sottoscrizione indirizzata al procuratore della Repubblica di Avellino Cantelmo. L'iniziativa è stata promossa da Alberto Bilotta, ex consigliere comunale di Avellino, e Don Luigi di Blasi, parroco di Borgo Ferrovia e Piano Dardine. Da quello che si apprende, si legge in una nota, si tratta di un impianto per riciclare pallini di piombo e per la gestione di rifiuti pericolosi. Sarebbe previsto anche l'acquisto e l'installazione di un forno di fusione. La fusione, oltre a piombo, interessa anche altri metalli. Un impianto che prevede lo smaltimento e la gestione di circa 10 tonnellate al giorno di rifiuti, incluso i metalli pesanti. L'istanza, si legge ancora, è datata 23 maggio e mai nessuno in nove mesi ha detto una sola parola e niente è trapelato. Ed ora siamo quasi arrivati alla fine. Il 28 febbraio è stata convocata la conferenza dei servizi per esprimere il parere definitivo sull'iniziativa. I cittadini si rivolgono dunque al procuratore che è stato determinante per la soluzione del problema dell'isochimica e dello stir perché intervenga nuovamente scongiurando l'installazione di questo nuovo impianto nella zona di Piano d'Ardine, Borgo Ferrovia. Intanto il comitato Salviamo la Valle del Sabato e Isde Avellino sabato mattina presso il Circolo della Stampa renderanno pubblica la relazione tecnica sulla qualità dell'aria ad Avellino nella Valle del Sabato. analisi e situazioni attuali, cause vere dell'inquinamento atmosferico in città. Sarà presente anche l'ingegnere Vincenzo Caprioli che ha elaborato i dati, redatto lo studio e spiegherà i contenuti. È un lavoro che successivamente verrà consegnato al Ministero dell'Ambiente e alla Procura della Repubblica di Avellino.